voglio ricordare a tutti che praticamente il cardinale sepe ogni qualvolta finiva un'omelia diceva ai convenuti amarone ci accompagna sotto una forma scaramantica come uno lo vuole interpretare e io da parte mia e camarone ci accompagna in questo corso finale di un'amministrazione ma a noi tutti i cittadini torresi ma è una cosa in bene veramente è una cosa in bene detto questo cosa a 48 ore 48 ore c'è una maggioranza tranquilla ma è quello che io avevo sempre detto la domanda che io mi pongo ma veramente si pensa di augurare al tuo prossimo quindi alla città di torre del greco un commissariamento quindi veramente c'è qualcuno che fa il tifo che possa venire la commissione d'accesso nel proprio comune che possa arrivare il commissario prefettizio che praticamente noi ci dobbiamo buttare solo la negatività addosso ma veramente c'è qualcuno un torrese un cittadino che pensa male della sua propria città io questo non mi spiego ve lo dico con molto onestà non mi spiego io posso essere ho sempre paragonato all'amministrazione come una famiglia il miglior padre il miglior la migliore madre o praticamente e basta che la famiglia ci sia ma ci possono essere anche il peggior padre la persona la peggiore madre ma l'importante che i genitori ci sono io questo non veramente io non ho fatto nulla per rimanere come sindaco perché sono stato eletto dal popolo e non potevo essere fiduciato dal consiglio comunale si aspetta le dimissioni di qualcuno sì mi aspetto le dimissioni del presidente del consiglio perché io posso capire che il presidente il presidente del consiglio in generale di qualsiasi comune italia come mi era stato dato una lettera al 30 dicembre deciderò assieme all'avvocato luisa liguoro atto per atto è un atto nuovo e io decido atto per atto ma firmare la mozione di sfiducia il presidente del consiglio dove il sindaco quando è stato eletto il presidente del consiglio io l'ho votato lui ha ricevuto quattro voti in meno alla maggioranza e io lui si voleva anche rimettere io ho detto no presidente lei adesso deve rimanere siamo a fianco tutti e due andiamo avanti allora il firmare io penso che non esista non esiste nessun comune che il presidente del consiglio votato dal sindaco firmi la mozione sfiducia la poteva votare perché ognuno è libero e quindi io ritengo il presidente del consiglio deve fare una sua giusta valutazione sempre nella massima correttezza quali sono i prossimi obiettivi di questa amministrazione e i prossimi obiettivi noi li abbiamo già segnati con i primi atti della giunta e con tutto quello che ci è stato chiesto dal pnrr siamo capofila per quanto riguarda ripeto se ripeto sempre le stesse cose perché comunque entriamo in questi argomenti non parliamo sempre del sacchetto di immondizia guardate torre ha la possibilità di avere già dei finanziamenti per quanto riguarda via la mare le palazzine per quanto riguarda tutta una serie di progettazioni ecco rifacimento della litorania per quanto il pnrr la città metropolitana con l'avanzo di amministrazione pare pare che praticamente abbiamo avuto il finanziamento per il palazzetto dello sport a carattere ministeriale sto aspettando solamente l'ufficialità della 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 carta ecco anche questo sto dando in primis a te questa 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 possibilità però siamo abbiamo risposto a tutto quello che ci è stato chiesto adesso partiranno tra poco anche i concorsi a tempo indeterminato part time per altre assunzioni allora se io tolgo per un attimo il sacchetto dell'immondizia per un attimo ma quello è un problema non è che non è un problema beh la città risponde a tutte quelle che sono le richieste che vengono dagli organi provincia regione quello che ci chiedono di fare quello stiamo facendo stiamo cercando anche di tranquillizzare l'anagrafe anche lì c'è il problema sono stati ridotti i tempi della testa identità ma guardate andate a guardare altri comuni però guardiamo giustamente qua e qua dico guarda il comune tuo vabbè avete ragione allora stiamo cercando di migliorare quelli che sono i tempi anche dell'anagrafe ricordo che comunque ci sono tanti servizi che possono essere chiesti online noi abbiamo aderito a quelle che sono le piattaforme